ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video di quadricottero news dopo le prove di ieri oggi continuo a provare il dji mini 2 tra l'altro ne ha aggiornato con vento sostenuto così vediamo anche come si comporta in queste condizioni visto che la dji afferma che il mini 2 sopporta un vento fino a una velocità massima di 38 km all'ora a differenza del mini 1 che sopporta vento fino a 28 km all'ora questa miglioria sul mini 2 deriva dall'adozione di nuovi motori ed eliche leggermente più rigide anche se come dimensioni sono esattamente uguali e quindi vedremo anche se si possono installare sul mini 1 in modo da avere eliche leggermente più rigide in questo video principalmente vedremo se la batteria del mini 1 si può usare sul mini 2 abbiamo già visto di sì nel precedente mio video oggi faremo il test poi proveremo a vedere se le eliche del mini 2 si possono installare sul mini 1 poi faremo la prova dello zoom e altre cose compresa appunto la prova di volo nel vento prima di iniziare vi chiedo l'iscrizione al canale se ne avete ancora fatta è un like grazie ritorniamo sulle batterie la batteria del mini 2 è di nuovo tipo nel senso che è una lipo non è più una ioni di litio come quella del mavic mini 1 è una lipo però di tipo hv con una tensione massima di 8,8 volt la batteria del mini 1 ha una tensione massima di 8,4 volte quindi una tensione inferiore rispetto a quella del mini 2 per questo motivo dji ha fatto in modo che la batteria del mini 2 non possa inserirsi nel mini 1 perché ha una forma diversa proprio non ci entra come potete notare però ha anche fatto in modo che la batteria del mini 1 possa essere installata sul mini 2 e farlo funzionare sono scelte volute non sono fatte a caso sono scelte volute dalla dji come potete notare segna massima carica la batteria del mini 1 sul mini 2 ed è anche per questo che il carica batteria del mini 2 supporta la carica della batteria dell'1 anche se è diversa questa è una batteria del mini 1 scarica per far vedere che si carica non è quella di prima che ho inserito nel mini 2 che era aveva la carica completa come potete notare si carica tranquillamente viene gestita dal caricatore e ovviamente viene riconosciuta gestita anche dal mini 2 sotto carica vedete si carica tranquillamente non c'è nessun errore tra l'altro come vedremo tra poco la dji dichiara ufficialmente la compatibilità cioè la possibilità di utilizzare appunto la batteria del mini 1 sul mini 2 ma qual è il problema il problema è che il mini 2 con questa batteria supera i 249 grammi raggiunge i 257 grammi cosa che obbliga il suo conduttore ad ottenere il cosiddetto patentino online inoltre l'autonomia di volo sarà inferiore e vedremo tra poco quanto sarà nella prova di volo questa cosa è confermata ufficialmente dalla dji nel proprio sito dji.com nelle facche dove afferma che le batterie del mavic mini sono compatibili con la versione internazionale del mini 2 cioè la nostra e poi afferma che sebbene la versione internazionale del mini 2 possa utilizzare le batterie del mini la potenza decrescerà e il peso totale supererà i 250 grammi come abbiamo visto rendendo così necessaria la registrazione in alcuni paesi ed infatti è così oltre alla registrazione è richiesto il patentino da noi per i droni sopra i 249 grammi per quanto riguarda le batterie originali del mini 2 sono ad autoscarica essendo delle lipo se auto scaricano dopo cinque giorni ai valori di storage che per queste batterie hv è il 72 per cento non è più il 55 60 per cento delle classiche lipo normali diciamo quindi io dopo un volo vi consiglio di caricare la batteria in modo che se poi non viene utilizzata per cinque giorni si porta comunque ai valori di storage passiamo alle eliche le eliche del mini 2 sono identiche a quelle dell'uno sono delle 47 26 esattamente come quelle dell'uno quindi stesse dimensioni non ci sarebbe nessun problema nell'utilizzarle anzi ci sarebbero dei vantaggi perché sono più rigide leggermente più rigide infatti pesano 0,1 grammo in più per pala quindi visto che sono 8 pale significa un aumento di 0,8 grammi cosa che farebbe raggiungere e forse superare i 250 grammi al mavic mini 1 e quindi richiederebbe di nuovo il patentino per proprio pochissimo vediamo comunque se si possono installare perché se si possono installare si può recuperare questo grammo togliendo qualcosa ad esempio i riempitivi in gomma dei braccetti e in questo modo si risolverebbero i problemi delle eliche di carta velina del mini 1 quindi vediamo verifichiamo se si possono installare purtroppo noto che la parte in cui si fissa la vite è più alta quella dell'elica del mini 2 l'elica del mini 2 ha questa parte più alta rispetto a quella del mini 1 quindi la vite del mini 1 infilata all'interno dell'elica del mini 2 non spunta e quindi non si può avvitare questa è la vite del mini 1 la inserisco nell'elica del mini 2 vedete non esce quindi non si può avvitare sul motore non c'è verso di farlo uscire è troppo corta rispetto all'elica del mini 2 allora bisogna utilizzare le viti originali dell'elica del mini 2 questa è la vite originale dell'elica del mini 2 la inserisco e come previsto spunta e quindi adesso si può provare ad avvitarla al motore del mini 1 prima di appoggiare la pala vediamo se la vite in effetti entra questa è la vite del mini 2 motore mini 1 e niente non entra non entra perché la vite ha un passo maggiore è più grande della filettatura del motore del mini 1 e questa secondo me è una cosa voluta dalla dji per risolvere bisogna trovare una vite più lunga con lo stesso passo della vite originale del mini 1 vite che non sarà semplice da trovare perché queste eriche sono pieghevoli devono avere un certo gioco appunto per muoversi secondo me è una cosa voluta dalla dji perché altrimenti il mini 1 supera i 250 grammi però non si spiega allora perché permette di utilizzare la batteria dell'uno sul due facendogli superare la soglia misteri dji torniamo alla prova togliamo la batteria del mini 2 e inseriamo quella del mini 1 e vediamo cosa succede vediamo come si comporta e l'autonomia di volo il dubbio è anche un po' quello degli assorbimenti anche se 257 grammi non sono tanti rispetto ai 249 del mini 1 però c'è la questione dei motori che sono di tipo diverso e quindi potrebbero assorbire di più rispetto a quelli del mini 1 vedremo cosa accade anche perché c'è vento e quindi gli assorbimenti secondo me saranno ancora maggiori bene l'accendiamo come dice jerry scotti che saluto nel caso mi stesse guardando nel caso improbabile mi stesse guardando per decollare ci sono sempre le due possibilità tappando l'icona oppure portando all'interno i due stick all'interno all'angolo interno in basso io preferisco sempre decollare con gli stick perché così posso dosare anche il gas durante l'ascesa diciamo c'è vento e quindi prima di allontanarci per provare lo zoom e la qualità video scattare foto eccetera facciamo giusto due manovre in loco per vedere se la batteria regge gli assorbimenti e che tutto funzioni come si deve in effetti è una cosa che si dovrebbe fare sempre cioè stazionare fare delle piccole manovre in loco subito dopo il decollo per verificare che sia tutto a posto dopodiché si può iniziare la missione è una buona abitudine ok tutto a posto sembra reggere bene il vento la batteria funziona e quindi possiamo allontanarci e iniziare la nostra missione iniziamo modalità normale allontaniamoci come si può notare l'autonomia prevista sta scendendo se fermate intorno ai 23 24 minuti adesso 25 26 quindi vuol dire assorbimenti variabili proviamo a sfiorare qualche cima degli alberi come questo e voilà siamo a 4k 30 fps 100 megabit al secondo il trasferrate si vede che ha un po il difetto del mini 1 cioè brucia un po i bianchi secondo me però si possono regolare i parametri anche nel video come nelle foto iso velocità otturatore esposizione proseguiamo perché vedo delle macchioline bianche andiamo a vedere cosa sono queste macchioline bianche sono numerose ed ecco che abbiamo trovato il latte ovvero le mucche quindi adesso ci fermiamo e proviamo lo zoom quando siamo a 4k si può fare uno zoom fino a 2x ovviamente a 2x si perde qualità per fare lo zoom ci sono tre modi uno è quello di premere sul numerino a fianco al tasto rec 2.0 in questo caso tra l'altro voglio farvi notare che il gimbal camera si può anche orientare verso l'alto bisogna però abilitare la voce nel menu di configurazione poi l'altro modo per fare lo zoom è premere il tasto fn sul radiocomando e muovere la rotellina quella che inclina il gimbal camera e poi c'è la possibilità di fare lo zoom con due dita sul monitor sul display dello smartphone allargando o stringendo due dita questo è lo zoom a 1080p che può arrivare fino a 4x anche qua si perde qualità a 4x mentre a 2x non si perde qualità rimane a 1080p qua siamo a 1080p 2x 4x mi sembra una future funzione interessante più che altro per quando si utilizza in tempo reale cioè per guardare sullo smartphone l'immagine ingrandita in real time perché altrimenti tutto il resto si può fare in post produzione comunque ingrandendo si può notare anche il movimento degli alberi causato dal vento ed è incredibile quanto riesce a sopportare il vento un drone così leggero e così piccolo una funzione interessante secondo me su utilizzata in real time perché altrimenti l'ingrandimento si può fare benissimo in post produzione a volo finito vediamo quanta autonomia abbiamo 14 minuti ma come vedete sta scendendo incredibilmente molto velocemente segno che la batteria sta erogando parecchia corrente quindi probabilmente ha dei cali di tensione proviamo ad esagerare attiviamo la modalità sport e voglio rischiare per metterlo alla frusta vedete 7 minuti 6 minuti scende veramente in modo incredibile adesso si stabilizzata sui 6 minuti anche perché ho rallentato ri accelero sono in modalità sport e quindi è abbastanza critica la situazione vediamo facciamo una manovra nel frattempo mi avvicino al punto di atterraggio ecco che spunta l'allarme batteria scarica e addirittura l'allarme vento forte con il gimbal che si è anche mosso avete visto si è inclinato quindi faccio questa manovra evasiva tra l'altro dice che è impossibile attivare il ritorno a caso automatico però secondo me se lo premo funziona ma comunque ritorno manualmente anzi adesso mi fermo abbasso l'altezza di ritorno a casa automatico perché col nuovo firmware è stato aumentato a 100 metri non voglio che salga a 100 metri e prova a premere il ritorno a casa automatico anche se adesso l'allarme vento è scomparso quindi non posso più fare questa prova niente non c'è più l'allarme vento però lo premo lo stesso così torno a casa automaticamente vediamo cosa fa come si può notare adesso addirittura l'autonomia è salita 10 minuti segno che richiede meno corrente alla batteria e quindi adesso la batteria è salita di tensione questo è un segnale che la batteria del mini 1 fa abbastanza fatica quando vola con mini 2 soprattutto quando vola in modalità sport e in effetti se andiamo ad analizzare i log di questo volo con la batteria del mini 1 io ho utilizzato air data possiamo notare che la velocità massima è arrivata a 49 chilometri all'ora mentre con la batteria originale può arrivare anche a 57 chilometri all'ora poi segna autonomia di volo 18 minuti con carica residua al 18 per cento ma soprattutto notiamo che quando ho switchato in modalità sport aveva ancora il 60 per cento di batteria ho switchato in modalità sport e poco dopo è apparso il segnale batteria scarica nonostante avessi 60 per cento di batteria cosa vuol dire vuol dire che ha avuto un drop quindi vuol dire che in modalità sport è meglio non utilizzarla questa batteria con il mini 2 anche con mini 1 aveva problemi ma soprattutto con mini 2 questi problemi aumentano perché assorbe probabilmente di più e questa batteria del mini 1 basata sulle 18 650 non riesce a derogare tutta la corrente o meglio riesce a derogarla ma abbassa la tensione e quindi segnala batteria scarica e allora mentre mostro che le modalità quick shot a mio parere hanno la distanza aumentata infatti possono arrivare fino a 120 metri alcune modalità mentre sul mini 1 non mi sembra che arrivassero così potessero arrivare così lontano traggono le mie conclusioni e le mie conclusioni sono che è vero che la batteria del mini 1 funziona con il mini 2 però secondo me è un po critica la faccenda se possibile io direi di non utilizzarla oppure se proprio si vuole utilizzare e pilotare in modalità normale senza attivare la modalità sport e non esagerare con le accelerazioni in questo modo si ha una maggiore sicurezza evitare anche di utilizzare batterie del mini 1 con tanti cicli di scarica sul mini 2 quindi anche se la dji dice che è compatibile e che si può usare secondo me si può usare però con prudenza senza abilitare modalità sport senza fare accelerazioni improvvise brusche però se si può evitare meglio secondo me magari da tenere come ultima risorsa nel senso dobbiamo fare un volo abbiamo la batteria originale che è scarica dobbiamo assolutamente continuare a volare abbiamo una batteria del mini 1 a quel punto possiamo rischiare di utilizzarla adottando queste accortezze bene come al solito avrei altre cose da dire però ormai siamo andati lunghi e quindi ecco questo ad esempio l'app dà la possibilità di cambiare la colorazione della luce anteriore possiamo farla diventare pulsante cioè intermittente oppure attivare la modalità arcobalino che a rotazione presenta tutti i colori e quindi a modalità arcobalino volendo si può anche disattivare quindi tenere la spinta bene dicevo direi che è tutto grazie per l'attenzione se siete arrivate fino a qua e iscrivetevi al canale se non avete ancora fatto fatemi sapere soprattutto cosa ne pensate nei commenti grazie a tutti e ci vediamo al prossimo video con caricottero news